Continuare qui, ma c'è gente, ma c'è gente, ma fa freddo, ma... Allora, sicuramente daranno del loro meglio, anzi, il massimo di quello che sanno dare. Adesso devono soltanto prepararsi perché abbiamo veramente una piccola picca. Per aspettare, voglio chiamare qui una poetessa anagnina, Antonella Quattroppi. In collaborazione con il telefono bianco, Associazione Vittime del Patrimonio, i rappresentanti del gruppo tetrale anagnino, amendo già lungamente sperimentato la condimenta matrimoniale, sono giunti alla conclusione che il matrimonio a figa è la più orribile tortura inventata dall'essere umano per autodistruggersi. Statisticamente sono un matrimonio sommile, ma come si tratta? Si tratta di un'esercizio. Luce. Ma ad una rossa corrispondono tantissime spie, e ad evitare che quelli che da voi non si sono ancora fungicati, c'è da una tentazione di amare agli più fortunati. A consolare quelli che ormai da tempo soppostano ogni più persi d'angheria e prepotenza da parte del cuore. Ad asciugare la lacrima di chi ha angosciato dall'impossibilità di venirne fuori, non può fare altro che pensare, ma chi me l'ha fatto qua? Girite con i girelli! Se è possibile la luce è sempre fissa, eh? Grazie. A tutti costoro noi siamo venuti a portare la rieta novella, la parabola matrimoniale, e andiamo a rappresentare con pieni gravi morali sull'uso di questo sacramento. Che non il Signore inventò, ma l'ingottigia di orefici, mobiliieri e ristoratori, vittime alla fine essi stessi della loro perfida invenzione, perché, ed è questa la prima morale, non è più. Della vecchia pombreria, iiiiio! Quanta gente per la vita, iiiiio! C'è la canna, Anna, Anna, lo, lo spinello, nello, ne, ne, nello, la, la, la va a stinca, chica, chica, ch, ch, chica, che, ne, ne la vecchia pombreria, iiiio! Vado, vado, vado con sta canna, sta canna, suono, per cominciare la giornata dalle ore perché oggi oggi ho tengo un sacco di pezzi prima venendo i ammigliati la galleria della nonna dopo venendo i ammigliati in un ufficio bisogna rinnovare la camisola la sera infatti c'è un altro muro che stasana a vedere in ogni mabutro ma un pò ragazzo è in ogni semmone se llorurare beh hai un uc un uc Fuglia! 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 Fuglia Nemmeno ora riesce a pagare Ma sarà l'iochia Ma da vincere da 20 litri se ne arriva da riempire 10 po' ciò Ma a una certa età, specialmente quando si hanno al top metro le divisioni Ma chi se ne ricorda più? Via, via anima mia, voglia mia, perché mi hai lasciato e te ne sei volata giù all'inferno che te sei volata? Papa, ma l'ultimo anno che si compromette stato, ma c'hanno visto in Sicilia una volta, la finanza? Acqua passata dalla cupana, ormai ci siamo rivisti in secchi, non sarei a gestino frate, ci siamo messi a scarico sia Ma che si ne vuole fare? Via, da quando le sei andata ti sei portata con te, tu un pezzetto della mia vita Che la buona pensione da compagno Mi ve lo faccio? Scusi Scusi Ma chi è? Scusi 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 Scusi